A Tolcinasco, grandi stelle dello sport e dello spettacolo, si sono confrontate in un master. Vediamo il servizio di Antonello Travaglini, con questo ci salutiamo, ci vediamo domani alle 12.30 con Sport24. Adesso c'è il telegiornale delle 20 di Red News 24. Grazie per essere stati con noi, buonasera a tutti. Ospiti d'eccezione al Paddle Club Tolcinasco, alle porte di Milano per il primo dei due master della seconda edizione dell'Exclusive Paddle Cup. Torneo amatoriale dove ex campioni dello sport e personaggi del mondo dello spettacolo si sono sfidati a colpi di padel. Un'occasione per promuovere uno sport che in Italia si sta diffondendo molto velocemente. Tra i giocatori iscritti al torneo, molti ex calciatori. Le nostre attività amatoriali, che organizziamo dal 2015, sono sempre più avvincenti, continuiamo a fare attività e abbiamo fatto giocare l'igliaia di persone. E siamo felici che ultimamente si siano avvicinati anche i famosi ex calciatori, di cui questa manifestazione ne abbiamo avuti addirittura dieci, che si divertono perché anche loro sono nel Paddle amatori come noi. Ospite d'onore, Veronica Virzeda, la campionessa del mondo con la nazionale spagnola ai recenti mondiali di Dubai, che ha svelato ai partecipanti al torneo alcuni segreti di questa disciplina. Dopo Milano, l'attenzione si sposta ora sul Master che si giocherà al Villa Panfili Paddle Club a Roma il 3 e 4 dicembre.